e che fai pasquetto? eh stiamo decidendo forse andiamo a otto del gavettone oppure in campagna della mia amica no trafalgar non so che cazzo fa dio comunque oggi è lunedì quindi mercoledì non è niente da fare cos'è? ah la sfida eh io sto aspettando ha detto che la fa mi chiede tu ci sei per commentare la grande sfida numero uno eh non facciamo partecipare con il codecaster praticamente con il codecaster noi stiamo come si fa a livello professionale? tu non hai mai visto un torneo perché il torneo è sempre ad agosto e cioè praticamente la nostra passione per la playstation ce la conosciamo da dicendo quindi ad agosto tu vedrai che io ti inviterò tutti i video delle grandi squadre c'è Ivo pure che impazzisce questa cosa praticamente hanno messo la possibilità che il codecaster può fare chiunque se noi entriamo in partita come spettatori noi vediamo eh le visuali di entrambi le possiamo cambiare da una all'altra no? e in più eh vediamo dove sta l'avversario perché lo vediamo tipo trasparente cioè lo vediamo colorato capito? quindi noi possiamo commentare sapendo dove sono loro ma loro ovviamente non lo sanno quindi ovviamente non puoi fare un fan che mi dici dove sta no vabbè ma noi saremmo in patti tra di noi e loro fuori dal pante capito? ah ok le altre volte io potevo commentare ma cioè lo facevo però non potevo stare a dire dove stava quindi era un commento povero capito? anche perché Bruno stava a casa mia giocava alla casa mia capito? sti cazzo che stava qui dentro perché trovo la p2020 appena a terra no? io c'ho dei vuoi scenari 99 sti cazzo che stava a casa mia capito? mi sono maПora la farei su una scuola a me da prendere la corazza blu la sto lasciando a blu ah no quella che ho lasciato io ah ti sa che l'avessi presa a blu e da tempo che non prendo uno spizzo e boh magicamente troverò lo spizzo da queste parti da questa linea di casa questa è un'altra qua oh sono stiavok di merda che fallo un'altra corazza blu vai attacchiamo ma chi? ti sono faccato perfetto ti sono faccato come io vado come vado a facciare andare lì sopra? no ma come faccio ad andare lì sopra? dove stanno? no ma te li pingo ah ho capito ma io riesco ad arrivare qua? eh dove sta andando bruno eh vai vai è morto e fa cazzo di pezzi di oro è quasi morto il pathfine quasi morto il pathfine che caldo giù guarda come scappa il bastardo sta qua il pathfine ma dov'è sta andando? oh sono andato dietro di me mi ha ucciso mi sta qua l'ho visto l'ho visto un pathfinder di merda sta scappando da qua dietro va qua è andato ecco lo ecco lo è qua no ma sta cazzo di hitbox rotto è incredibile si infatti l'ho dovuto sparare con due erano a 99 oh il solettore scusa è un altro coglione che avevo ucciso io dove è morto? sopra è attaccato i miei scudi eh occhio sta avendo un altro arrivo caditi squipi il bright che l'ho ucciso io dove sta? c'eva lo spirito si sta sopra la cosa però è venuto una super lo so sta arrivando dove stai tu? ho la corazzata io l'ho quasi tolta andiamo andiamo è veramente one shot ho tolto tutta la corazzata è ucciso mi sta un altro ok ok qualcun'altro di venire ancora il gipraltar oh dentro 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 ma che cazzo sta succedendo? nonna santa sto gipraltar devastante mi ha distrutto la porta aiuto ma è troppo forte sta ultimis si l'ultimis è di gipraltar ma dove sta? senza caricatore leggi sono 4 eccolo ottimo ottimo no mi lascio il caricatore pesante questo è un altro oh mi spazio no due sono due o tre due o tre curati no non mi l'ho curato perché ho preso la la cosa a viola ed era la tua cazzo 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 ma dove stanno? eh due pingatti un altro un altro qua dietro 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 one shot one shot one shot no non è una one shot quello one shot è quello che abbiamo buttato no è quello che hai ucciso tu rianimo io rianimo io qualcun altro deve venire cioè ma quel pezzo di merda che ha tirato il bombardare c'è uno speed per cui dentro c'ho sprawl e r99 me lo prendo io se l'ha lasciata che è coso? lo speed no anche lui per me non serve no perché c'avevo due r99 ne ho lasciata una dove sta la r99? qua andiamo i v2 io ho giocato con 2 r90 e dove sta? oh oh chi è? oh sono stato io oddio mi provi uno streaming di gotti? no non si trova non si trovano no fino a che ora non si trova? dopo ho mangiato lo vedo oh dopo ho mangiato è il dio che vede però se non lo trova se no alle 21 e 15 su sky ti posso inviare la prova ma penso che ci riesca alla 21 e 15 21 e 15 ti do ti do un limpio ti ti volo di c'è un nostro tutto che abbiamo visto alle 3 di notte la puntata solo tu l'hai vista non è ancora a distanza perché il dio l'ha vista non so come ha fatto a vederla mi scherzo sta in streaming però lui l'ha vista esiste sky on demand ah sky on demand io lo faccio partire quando ma scusa tu non hai sky si dio e beh e beh su sky on demand lo fai partire e non ce l'ho sky on demand e vabbè ma è gratis basta avere il decoder giusto e mi fa sempre il decoder cioè dispiace comunque è gratis basta avere il decoder oh andiamo a attacchi che devo andare a mangiare addirittura io ho i rifornimenti che faccio oh stanno qua dietro di voi qua venite con me per favore vi sto dietro buono cerro un altro deve stare un altro che cosa le fai un life spero lo so inseguendo ok l'avete uscita? si ok ok mi ricorda non è che lo sentite dù guardicio si trovo qualcosa che lo ha detto guardicio guardia ah bravo 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 ok ci sono ci sono ci sono ci sono quelli Ho una mano, farlo dal telefono Aspetta, vediamo se mi da una minacione Uè, pushiamo veloci, che secondo me ci sta andando bene L'ultima te l'ha detto così, non è finita Che credo sia qui? 45 secondi, ma possiamo solo andare Ottimo, ottimo Adesso di spari Ti ho sentito Non sta a capare Dove stavano? Non sparano più Dio, ma domenica prossima ci si Aspetta, ecco li, vedete Però stavano anche qua nel fumo Stavano anche qua nel fumo Vedete da qua, da qua sopra li li intercettiamo Sì, ma non hanno visto Non lo so, chi se ne frega Chi se ne frega Questa è la parazza ora Una ferra Hai fatto un altro Hai fatto un altro eh? Aiuto, che c'ho il peacekeeper Ancora deve andare a terra su strutti Ho tirato la granata Sì, vai, non sento qui niente Ho curato io Che arriva l'altra scuola qua? Arriva... Madonna, santissima Una straccia Oh, minaccina Ah, state... Io so il fesso Sì, che bello Ho perso, ho fatto 6 kill No, io so il fesso che c'ho C'ho il fesso che... Che non mi sono preso le corazze d'ora Alessandro, tu mi insegni Che la corazza oro è uguale a quella Sì, lo so, lo so Ma come... Tu mi insegni che Psicologicamente è buona Sì, sì Oh, comunque ho scoperto Che non ho munizioni arancioni Porca vacca Gli ho sparati tutto e di più Hai due granate qua, ma Alla, vieni Sì, un attimo Mi sembra molissimo Non c'è per forza Che ci sono? Comunque da là stavano sparando Andiamo, andiamo No, ma... Li abbiamo uccisi tutti Ah, li abbiamo uccisi Sì, ok No, io sono inghingerissimi, ragazzi Vedete... vedete che c'ho io Madonna, stante Guarda, si trova uno scuola Si trova uno scuola Si, te lo do Cioè, non mi interessa Facciamo così, per rispetto Per rispetto Per rispetto Allora, vado a vederla safe Vado a vederla safe dove chiude Vabbè, sarà impianto di depurazione Dov'è a casa tua? Esatto Io c'ho un'impianto di depurazione Oddio, ma Pasqua che non parla l'infame come chiude Infame? Ma che fate la Pasqua che trovo? Eh, stiamo decidendo Però, oddio, siccome è infame Non verrà mai con lui Infame? Ho solo detto che saranno più persone che mi hanno chiesto Ma a me mica ho detto che non mi hanno chiesto Attenzione Se vai con Michele non ti dico niente Se vai con Pomodorino Allora, vado con Michele Allora Poi è andato per la mente C'è no? Forza Forza C'è anche un Pomodorino là Forza, forza Per che cazzo stai? Eh, te lo dico di vado a luttare Avete il mancello, cioè questo che volete trovare No, si lutta sempre Cioè io ho tutti gli accessori di viola Non è che vado a luttare Cazzo devo vado a trovare Io volevo un altro Il sui R99 c'ho Canna oro Caricatore viola Minaccia E il calcio viola Pure io Io solo una minaccia potrei avere Cioè per il resto Ma non mi serve una minaccia Se ne trovate un'altra è buona Mi basta di mio occhio Attenzione Pure io Mi hai copiato l'equipaggiamento eh Prawler R99 Sì, sì Andiamo a prendere le cose Questa è la copiata definitiva come armi Quale? Un problema è da lontano Eh, da lontano Da lontano Da lontano Da vicino sei il video La carabina Gli ammazza tutti Solo la carabina è buona Non so Dove sta sto? No Non andiamo Non so mai sono Oh Ah C'è un problema Dove sta la cassa? E deve stare sopra il tetto Sopra il tetto la cassa da quando? No, non sta qua Ah proprio qua è l'intero Lo scudo ausiliario da ora dopo? Sì Lasci Lasci Nooo non c'è Se saliamo qua li vediamo dove stanno Ah infatti saliamo Metti la zippa No no sali qua Oh Pallone Ok Dove stanno vediamo Se li vedete ti indate Io non li vedo Ok Ce la fate andare tipo su stick Così Sto cauto Cosa Dove stanno dove stanno? Sparano andiamo Col pallone ce la faccio Dove? Andiamo col pallone Io li sento sparare Eh dove? Arriva Venite sul pallone Sentite le bombe Oh Prendete il pallone Appena vediamo dove avete detto che sta Spano andate Non li vedo più Uno sta a terra Da là stanno Da là stanno Sì Secondo me si sentono Chi li spiego Ok andiamo Venite venite forza no perchè se andiamo ora li imbazziamo ultimamente devo fare uno contro un act hai trovato? no ma perchè state là? ah state su pallone l'ho visto l'ho visto ci siete? possiamo attaccare? si vai 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 dentro la casa sta ricordatevi le granate sopra la casa sta sopra la casa non lo vedo l'ho visto l'ho ferito tantissimo all'octi l'ho ferito tantissimo quasi morto non so quale era il 99? è stato uscito questo è l'altro è morto questo? dai dai che ero giusto finita dai vinto a terra un altro dove è scappato? lo sento vado ci su uuuu dia la freca tu me la ruba senti gli ho fatto un 20 di danno però mi ho sentito come la kill mio colp roller vado contro sparo senza mirare tutti i 35 i colpi mentre danno 34 mamma mia questa è la salve bravo vado a mangiare gioco tra un po' pure io vado a mangiare vabbè mi aspetta grazie